Anche il comune di Lodi ha deciso di aderire al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'omonima associazione nazionale. Lo ha comunicato l'assessore Francesco Milanesi che assieme al suo collega Stefano Caserini ha illustrato il programma di eventi che si snoderà nel mese di ottobre. Con loro nella sala capogruppi di Palazzo Broletto i rappresentanti di alcuni degli enti coinvolti. Nello specifico sono previsti laboratori artigianali, conferenze, escursioni in bicicletta, proiezioni di film e mostre fotografiche. I temi che saranno affrontati sono quelli che da tempo preoccupano l'opinione pubblica e gli amministratori. Si va dalla gestione delle risorse idrica, la valorizzazione dell'ambiente nel quale viviamo, dal futuro energetico del pianeta, le scelte quotidiane che possono aiutare per limitare gli sprechi. Si inizia domenica 9 ottobre con Pulliamo il mondo ed un laboratorio organizzato dal gruppo Progetto Pretesto e si finisce con la proiezione al cinema fanfulla di Viale Pavia del film dal titolo Utama, le terre dimenticate. In programma mercoledì 26 ottobre.